Scogna Miglio, momento topico della stagione, non si può sbagliare? Sicuramente siamo agli sgoccioli, quindi ogni partita è una finale, ogni punto vale doppio, quindi sicuramente sono partite da affrontare nel modo giusto, anche questa di Carpi, che secondo me il Carpi si gioca tutto in questa partita e noi anche, perché dobbiamo conquistare playoff. Come state? Perché sul piano dei numeri purtroppo c'è stata una flessione evidente, però a mio avviso avete fatto registrare una ripresa nell'ultima partita col Perugia, sei d'accordo o no? Sicuramente nell'ultima partita col Perugia c'è stata una reazione da parte della squadra, anche il modo di stare in campo a livello tattico, la squadra è stata ordinata, ho cercato comunque di fare un'ottima partita con una squadra forte, perché il Perugia è una delle squadre che gioca secondo me il miglior calcio della Serie B, quindi non era facile affrontare. Peccato per il risultato, perché secondo me è l'unico episodio che ci è capitato a sfavore, abbiamo subito gol, se no potevamo portare a casa tre punti ed era una vittoria molto importante per noi. Però sicuramente i dieci giorni sono serviti per lavorare, anche un po' a livello fisico, siamo messi a posto, speriamo che lunedì a Carpi possiamo portare a casa tre punti, che per noi sono fondamentali. Quali possono essere le insidie? Sicuramente non affrontare la partita sotto ritmo, perché loro metteranno sicuramente sull'aggressività, partiranno forte per cercare di sbloccare la gara, noi dobbiamo stare attenti a queste cose, agli episodi, e poi cercare di pungere nel momento giusto, quando magari loro si sbilanceranno in avanti, noi in contropiede cercare di fargli male. Sarai uno dei tanti assenti, ci sarà sicuramente il debutto di Bettella, oggi l'ha confermato il mister Bettella Perrotta, insomma anche tu dall'altra tua esperienza hai aiutato in questi giorni, presumo, il classe 2000, che comunque ha già dimostrato una bella personalità. Sicuramente Davide è un giocatore importante, ha l'età della sua parte, ha tanti anni di carriera ancora da fare, sicuramente saprà fare il suo mestiere, quindi io sicuramente gli ho dato qualche consiglio perché fa parte anche questo di noi più grandi, dobbiamo aiutare i ragazzi più giovani, sicuramente farà coppia con Marco che lo aiuterà anche in campo, sicuramente faranno una grande partita.